Vai Leo. Allora, qui abbiamo la nostra tenda, abbiamo appena montato. Possiamo vedere l'inquadratura principale, qua abbiamo la veranda, cioè zona aperitiva. La nostra valletta Lorenzo sta costando. Adesso possiamo vedere con la lato vento e valentino. Adesso passiamo a vedere le altre ultime zone restanti della nostra tenda. Il cane che ci piscerà. Ecco, questo è il lato destro, dove si può venire a ammirare la scritta Bravo. Vai e scoprile la lato. Trova pure dietro, qua è presente la seconda entrata, c'è una cosiddetta anche uscita di sicurezza, però l'abbiamo chiusa perché non l'abbiamo bisogno. C'è il lato sinistro con l'apposita finestra. Un po' quasi di tornare a tasto di nuovo. Io ho ce l'è qualche. Adesso... 5 secondi lei, vai dai! Il figlio d'euro.